Quest'uomo ha un talento mai visto prima. Infatti riesce a tagliare un foglio di carta con una precisione tale da creare delle vere e proprie opere d'arte. Come questo. E fidati, il risultato finale ti stupirà. Lui prima piega il foglio in due e addirittura in quattro. E poi inizia teare i lati. Questo per creare dei fori più o meno grandi una volta riaperto il foglio. Ammetto che io, come credo alla maggior parte di voi, l'ho fatto da bambina. Ma a differenza sua, totalmente a caso, per creare gli rigori più strani possibili. Più era strana la figura, più mi piaceva. Ma qui parliamo di vere e proprie opere d'arte. Ma più che altro voglio vedere in quanti, come me, lo facevano. Cioè piegare i fogli e tagliarli a caso per poi aprirli e vedere quegli rigori strani. Quindi clicca mi piace se anche tu, come me, lo facevi. Voglio vedere in quanti viviamo la stessa vita. Siamo quasi alla fine, ma si comincia già ad intravedere chi è. Ok, adesso è inconfondibile. È un personaggio iconico. Se hai capito chi è, scrivilo nei commenti.